Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di gnocchetti sardi 30 grammi di gorgonzola 30 grammi di toma 30 grammi di ricotta fresca 30 grammi di fontina 4 cucchiai di parmigiano grattugiato 30 grammi di burro e sale Preparazione Far bollire gli gnocchetti per almeno 20 minuti in acqua bullente e salata Intanto tagliare tutti i formaggi a dadini Quando la pasta sarà cotta scolarla e metterla nuovamente nella pentola di cottura Unire i formaggi Il burro Il parmigiano e servire Il piatto è pronto Buon appetito!